Buongiorno amici, oggi parliamo di mercato, ovviamente di calcio, ma lo facciamo in un modo particolare. Allora, sapete tutti che in queste ore c'è stato il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Questa non è una notizia. La notizia è però che gli arabi, in particolare quelli del fondo sovrano dell'Arabia Saudita, che si chiama PIF, stanno accerchiando il calcio europeo se non il calcio mondiale. Come lo stanno facendo? In due modi. Allora, Arabia Saudita, campionato praticamente nazionalizzato dal governo. Le squadre principali sono di proprietà quasi totale del governo, che ha la maggioranza nei club. Lì, per portare pubblico allo stadio, si punta sui giocatori non a fine corsa, ma che hanno già fatto molto in carriera, come Cristiano Ronaldo, che è stato il primo, come Coulibaly, come Kanté, come Benzema, che sono arrivati in questi giorni. Quindi spettacolo garantito allo stadio e in televisione per gli spettatori arabi, anche per noi che su determinati canali vediamo il campionato dell'Arabia Saudita. Ma l'accerchiamento più importante e più doloroso per l'Europa e per l'Italia è quello in atto per i giocatori freschi, in particolare per quelli che vanno a finire al Newcastle. Newcastle è stata per anni una delle squadre disgraziate per quanto riguarda la Premier League, poi è arrivato appunto Piff, che ha comprato tutto, e con un'azione molto molto oculata, quindi non tutto subito, è salito di tono, quest'anno è arrivato in Champions, vuole salire ancora di tono, e allora si investe su giocatori giovani, ma già con un'esperienza importante. L'esempio è proprio Sandro Tonali. 80 milioni al Milan, offerta che molti dicono non si poteva rifiutare, quasi 10 milioni all'anno per Tonali, che quadruplica il suo stipendio, che dire, niente da commentare. È così e deve essere così. Sono i petrol dollari che stanno tornando indietro in maniera un po' curiosa. Li abbiamo dati noi ormai da 40 anni per la nostra benzina agli arabi, adesso gli arabi diversificano e lo fanno nel mondo del calcio. Tonali non sarà il primo, nemmeno l'ultimo, di giovani che partiranno dal nostro campionato verso l'Inghilterra o verso club europei di proprietà appunto dell'Arabia Saudita, ma non solo, perché stiamo parlando degli arabi di Piffa, ma poi c'è anche il Qatar, ci sono gli Emirati, lo sapete tutti. C'è l'esempio del Manchester City, che insegna quello del Paris Saint-Germain, che è un po' diverso, ma insegna anche quello. Attenzione quindi? No, perché non possiamo fare assolutamente nulla. Adesso il punto di domanda è, il Milan, con questi 80 milioni, cercherà di comprare altri giocatori, rifare un po' la squadra? Oppure il Milan ha bisogno di incassare quindi la partenza di Tonali verso Newcastle? È qualcosa che aprirà le porte ad altre uscite importanti per portare ancora soldi nelle casse rossonere? Questo è un punto di domanda che può preoccupare appunto il Milan. Dall'altra parte, come sapete, il mercato dell'Inter è un po' meno segnato dagli arabi, con Dzeko che è andato in Turchia. Anche lì però, evidentemente, hanno soldi, hanno investito sulla punta, protagonista della cavalcata di quest'anno, Nerozurra. E poi ci sono punti di domanda, appunto sempre per l'Inter, che riguardano Lukaku e il Chelsea, e anche, se vogliamo, Barella, che potrebbe tornare di attualità se ricevesse appunto il club Nerozurro, un'offerta maggiorata come è stata quella di Tonali, passato da 60-80 milioni. Probabilmente per l'Inter, se si facesse un salto in avanti anche per Barella, sarebbe difficile dire di no, anche perché lo stipendio del giocatore stesso diventerebbe importante per lui. Noi ci sentiamo, ci vediamo da queste parti domani. Arrivederci.